La tradizionale accensione della Menorah, il candelabro a sette bracci tra i simboli più antichi della religione ebraica, come momento celebrativo scelto a Barletta per onorare la giornata della memoria. Il 27 gennaio 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. 77 anni dopo, nella piazza d'armi del castello, istituzioni, associazioni e studenti ricordano così le vittime dell'olocausto. Nel libro percorsi di memoria promosso dall'ampia e dal comune vengono invece rievocati i principali fatti storici che a Barletta caratterizzarono gli anni che vanno dall'ascisa del fascismo sino al secondo dopoguerra, un'opera che si rivolge alle giovani generazioni la cui presentazione è stata inserita tra gli eventi celebrativi della giornata della memoria. Per anni si è parlato della storia di quello che avvenne nel settembre 1943 a Barletta in maniera un po' riduttiva. Adesso ormai il puzzle è quasi completo. In questa pubblicazione in particolare noi aggiungiamo qualche cosa che non era mai stato trattato, cioè quello che ha preceduto la Seconda Guerra Mondiale, quindi le violenze squadriste a Barletta e il periodo successivo, quello dell'accoglienza, perché Barletta si è distinta e questo dovrebbe essere un punto di orgoglio per tutti i barlettani. Barletta si è distinta per l'accoglienza, quindi tutti i profughi che provenivano anche dai campi di concentramento, come i profughi del confine nord orientale, transitarono e furono accolti da Barletta, non soltanto perché c'erano delle strutture predisposte a questo, ma furono accolti dalla cittadinanza, si integrarono con la cittadinanza barlettana e questa disponibilità ad accogliere, ad ascoltare le loro storie, a fargli dimenticare quelle tristi, tragiche esperienze che avevano vissuto e una qualità di noi barlettani che dovremmo recuperare. Il libro verrà distribuito nei sei istituti comprensivi della città di Barletta, destinato agli studenti di terza media. Io penso sia un breviario veramente importantissimo per chi, soprattutto giovane, vuole conoscere e capire la storia della resistenza legata fortemente, anzi direi quasi esclusivamente, al territorio di Barletta. Grazie.